pagelle di malmo juve prima partita di champions league oggi pomeriggio nel video che ho fatto dedicato alla mia diciamo così venuta nei fuorigioco il nuovo canale dove io sarò protagonista insieme a nischio a zaccolo duro spero di fare delle belle pagelle signori ve lo dico prima anzi non ve lo dico ascoltatene c'è di sei è stato inerte tutta la partita perché la juventus ha difeso benissimo ha tenuto il pallino del gioco e quindi non ha fatto niente di che ma però quando sono arrivati due tre prelioni sul finale nel forcing che ha cercato di fare disparatamente il malmo ha fatto due o tre belli interventi due tre belle uscite niente di trascendentale ma ha voluto far vedere con la presa proprio in maniera molto chiara che insomma quello che è stato visto fino adesso speriamo che sia soltanto un palido ricordo di un naso di un sogno un incubo di mezz'estate quindi sei cesni danilo sette danilo continua ad essere un giocatore fondamentale per la juventus da ordine la difesa propone palloni smista degli ottimi palloni fa dei bellissimi fraseggi con quadrado e spesso mette palloni in mezzo per il centrocampo per far ripartire l'azione mi è piaciuto moltissimo danilo sapete che dall'anno scorso lo stimo in maniera smisurata sono contentissimo della sua prestazione sette bonucci sette questa sera abbiamo visto il bonucci dei tempi migliori sì perché questa sera bonucci non ha praticamente sbagliato un lancio io non capisco come sia possibile che un giocatore tre giorni fa non ha azzeccato un lancio a napoli questa sera li ha azzeccati tutti cioè il lancio non dipende dagli avversari il lancio è o lo azzecchi o non l'azzecchi puoi avere contro il bayard di monaco o la citerbese ma se tu lo sbagli lo sbagli anche quella citerbese stasera non è sbagliato neanche uno ha difeso bene ha dato ordine è il vero playmaker basso della squadra complimenti boni sette sandro scherzo sette stasera mi è piaciuto molto non solo per il gol perché il gol è stato veramente un gran bel gol perché la palla era molto bassa si è buttato perché perché ha fatto soltanto qualche diciamo alleggerimento all'indietro ma poi però ha sempre cercato di saltare l'uomo ha sempre cercato di proporre il gioco sempre si vede che la juventus ha cambiato sport perché quello che si è visto fino a domenica non era calcio era un'altra roba era una cosa adesso finalmente stasera abbiamo giocato a calcio poi può piacere può non piacere ma abbiamo giocato a calcio bravo sandro sette betancourt sei betancourt quando gioca bene il 6 lo porta a casa purtroppo ha dei mezzi tecnici un po limitati ha provato due tre volte a fare dei passaggi dei filtranti non li ha azzeccati ma non ha commesso errori è stato dirigente si è messo al fianco ha fatto lo scudiero di locatelli e quindi mi è piaciuto veramente non dico tanto ma mi è piaciuto sei locatelli ecco locatelli veramente sono contento perché insistevano a tutti i costi nel volerlo prendere io non lo conoscevo mi diceva il mio amico massimo anceschi che va spesso a vedere la regge emilia sassuolo perché sapete che sassuolo giocare gemilia guarda che questo è forte ma stai tranquillo è un grande acquisto ebbene devo dire che il mio amico massimo che tutti voi conoscete perché protagonista spesso di 95esimo minuto e anche delle live il mio canale aveva ragione a me locatelli è piaciuto tantissimo mi era piaciuto anche a napoli e mi era piaciuto anche nella partita precedente quando aveva giocato è uno che testa alta da sempre il pallone giusto al momento giusto all'uomo giusto nel posto giusto sette e mezzo bravo locca rabio sei e mezzo questa sera rabio è il rabio che fa la partita bella adesso io sono un po preoccupato perché in genere lui fa una bella partita poi ne fa due tre del cavolo siccome domenica c'è il mila incorcio le dita perché sarebbe tanta roba se rabio visto che probabilmente giocherà ancora visto che artur non c'è e quindi rabio mi raccomando continua così corsa sei stato anche abbastanza ficcante hai provato il tiro insomma stasera ti sei comportato da centrocampista moderno e un bel sei e mezzo non te lo toglie nessuno quadrado sette va bene ragazzi inutile che ve lo dica il mio juan è il giocatore più pericoloso della juventus quando non c'è chiesa perché mette palloni in mezzo salta sempre l'uomo fa l'uno fa uno due stasera ha fatto un paio di uno due con di bala molto belli purtroppo di bala stasera è stato un po impreciso vabbè comunque quadradone bel sette non te lo toglie nessuno di bala sei e mezzo certo mica gli do un butto voto sei e mezzo perché è stato un po ha avuto un po le polveri bagnate nei tiri mi aspettavo un po di più di precisione di cattiveria ma comunque se il buongiorno si vede al mattino stasera ha giocato molto basso è andato a prendersi i palloni stasera ragazzi abbiamo avuto tre resisti e diciamolo bonucci locatelli e di bala e contro i resisti e contro i resisti che smistano palloni se gli altri non dormono le partite si vincono ai signori non c'è niente da fare cioè bisogna prendersi la responsabilità quindi mi è piaciuto però da lui ovviamente essendo uno con dei piedi fatati mi aspetto molto di più sei e mezzo morata sei e mezzo sei e mezzo perché ha fatto un bel gol perché la palla non era facile perché ha fatto ha fatto collo piede ha alzato la palla ha fatto una specie di cucchiaino bello è nato lì adesso non l'avete visto però purtroppo c'è questo difetto attavico di essere sempre in fuorigioco e di essere un po precipitoso se si mette con la testa tranquilla e capisce che deve fare magari più passaggi quando non deve tirare e non deve tirare quando deve fare i passaggi allora si può dare che morata possa anche fare una buona stagione stasera però sei e mezzo glielo do molto 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 volentieri ken o king sei e mezzo perché ragazzi ha giocato neanche 20 minuti ma ha messo in difficoltà la difesa del malmo da solo è un frullino è scatta di qua scatta pensate mi ricordo è molto coman ma questo qua però ha il fiuto del gol a differenza di coman quindi è un bel acquisto secondo me io credo che allegri dovrà puntare molto su di lui perché secondo me quando mancherà o morata o mancherà chiesa secondo me che potrebbe essere un'arma veramente importante per l'attacco della juventus quindi un bel sei e mezzo mckenny che sapete benissimo che non considero un gran giocatore non ha fatto niente di che però è entrato in campo stato dirigente è stato attento a non fare dei fallacci ha fatto due tre palloni insomma interessanti non è preciso insomma non è ripeto non è un top player non è neanche un buon giocatore un mediocre giocatore però sei io glielo do con tutto il cuore veramente glielo da con tutto il cuore poi invece ramse kuluseschi rugani troppo poco tempo in campo troppo poche azioni e quindi do un sv a tutte e tre perché mi sembrava ingeneroso dare un voto a giocatori che hanno giocato 10 minuti e poi tra l'altro la partita era ampiamente chiusa perché la juve sul 3 0 non ha più concesso nulla al malmo allegri questa sera spero che sia una lunga serie di voti che darò ad allegri sia in campionato ma soprattutto in champions league che sapete che a cui io tengo moltissimo do 7 7 perché ha messo in campo la juventus bene mi è piaciuta giocatori erano nei ruoli giusti è il posto giusto giocatore ha fatto le giocate giuste e come ribadisco come ho detto anche nell'analisi se non l'avete visto il video precedente che ho caricato andare a vincere la prima partita in champions league fuori casa cosa che conte non riusciva a fare perché pareggiava con l'elsinburg fuori pareggiava con il gatta perdeva col gatta sarai fuori e perdeva col copenaghen fuori almeno allegri la prima partita l'ha portata a casa allegri con per i campioni secondo me secondo me è una natura della champions league guardate cosa vi dico magari che ne so magari si rallentano il minan l'inter e il napoli e la roma e secondo me rallenteranno magari nelle prime quattro non si sa ma poi con allegri bisogna sempre stare attenti perché ti tira fuori il cronio dal cilindro quindi questa sera caro max sono molto contento veramente perché sai che io sono un tuo estimatore sono molto contento di darti 7 ok però mi raccomando max continua così e domenica con il mino non ti metterà a fare degli esperimenti e metti in campo i giocatori nel ruolo giusto al posto giusto ok buonanotte a tutti e ci vediamo domenattina col good morning juventus ciao